Si è svolto in un clima cordiale l'incontro oggi in Vaticano tra Papa Francesco e il primo ministro della Repubblica Democratica di Timor-Leste. La Sala Stampa Vaticana rende noto che durante l'udienza è stato rimarcato il contributo storico della Chiesa nell'edificazione della Nazione e la collaborazione esistente con le autorità civili in vari ambiti sociali, quali l'educazione, la sanità e la lotta alla povertà. Al termine dell'incontro con il segretario di Stato, Cardinale Pietro Parolin, ha avuto luogo nella Sala dei Trattati del Palazzo Apostolico Vaticano lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo firmato a Dili il 14 agosto 2015. L'intesa sancisce il riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa e delle sue istituzioni e garantisce alla Chiesa la libertà di svolgere la propria missione in favore della popolazione timorese.